La maratonina del vino, penultimo appuntamento dei Golden Evans, mentre l'ultimo è la mezza maratona a Monte dello Scudo, la classica d'inverno, giunta al decennale. Quest'anno sarà il decennale, per Monte Scudo e anche per noi è una gara molto importante. Anche questa qui fa vedere le bellezze del nostro splendido entroterra nella Val Conca agli amici che vengono da tutto il mondo, possiamo dirlo forte. Ormai i Golden Evans hanno partecipanti da tutte le parti, ricordiamo solo la notte rosa con gli atleti che sono venuti addirittura da Hong Kong per partecipare, per correre con noi. Quindi ormai è transnazionale questi appuntamenti. Monte dello Scudo, a distanza di mezza maratona, ma c'è anche il percorso di 9-2 km e poi c'è la degustazione dei sapori con ormai la famosa bruschetta con l'olio dei nostri colli, il miele dei produttori locali, il buon vino che non manca mai e tantissime cose. Naturalmente l'appuntamento è fisso nel calendario e sempre per la festa dell'Immacolata l'8 dicembre. Tutti questi appuntamenti sono visibili sul sito www.goldenclubrimini.it. Quindi gli ultimi due appuntamenti del calendario sono entrambi nella Valconca con la maratonina del Vino a città di San Clemente e con la mezza maratona a Monte dello Scudo a Monte Scudo di Rimini.